hi guys video dimostrativo serie wild dog full custom presenti sul nostro sito che naturalmente si differenzieranno esteticamente da un modello all'altro solita meccanica full custom completo come naturalmente da descrizione sito con grilletto retro arms e nostra modifica touchscreen andiamo a fare un breve test grilletto con corsa micrometrica pull out semi semi sicura domicili 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 domicili